ci prepariamo così all'autunno grande lavoro dell'amministrazione comunale ottimo lavoro degli esperti tutti nominati ovviamente a titolo strettamente gratuito in base al curriculum a settembre a settembre ci faremo qualche bella risata guardate intanto che bella bombetta d'acqua la città risponde bene comunque mentre il traffico non può mancare souvenir di questa città forcizia ovunque